Sono aumentate anche in Brianza negli ultimi anni le aggressioni nei confronti del personale medico. La Questura di Monza ha avviato dei corsi di difesa personale tenuti dagli istruttori della Polizia di Stato a favore di 143 medici della provincia. Un'iniziativa fortemente voluta dal Presidente Provinciale dell'Ordine dei Medici e degli onontoiatri Carlo Maria Terruzzi, che ha trovato la disponibilità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Questore Marco Dorisio per la formazione dei medici in un'ottica volta a prevenire e gestire eventuali episodi di violenza e criticità. Il corso si svolge presso la palestra della Questura. Coinvolgerà 108 donne e 35 uomini di età compresa tra i 30 e i 65 anni, a cui sarà data la possibilità di apprendere tecniche di difesa da un'ipotetica aggressione che si manifesti con uno strangolamento, una presa a camice, un bloccaggio delle mani, ma anche affrontando tecniche di contrasto a seguito di contatto corpo a corpo in uno scenario a terra. Saranno insegnate anche alcune tecniche di de-escalation verbale. Incontri, calendarizzati nelle giornate del martedì e del venerdì, saranno tenuti dall'istruttore di arti marziali della Polizia di Stato, assistente capo coordinatore Danilo Bignone, già appartenente alle fiamme oro della Polizia di Stato, campione italiano assoluto di lotta, cintura nera di judo, allenatore di lotta e istruttore di arti marziali miste. Nel servizio presso la questura di Monza e dell'Abrianza. Con la supervisione del commissario capo Alessandro Barone, riguarderanno l'utilizzo di tecniche di difesa che non necessitano di particolare forza fisica per contrastare le aggressioni e garantire una maggiore autotutela e sicurezza personale a favore dei medici.